Ci troviamo a Magenta con Barsecchi del controllo del vicinato, cosa stiamo facendo qui? Stiamo realizzando il primo gruppo di controllo del vicinato a Magenta. E in questo momento a Magenta com'è la situazione del controllo del vicinato? Appena partita ci sono già, da quello che so io adesso non sono proprio del tutto a corrente perché ci sono state delle ultime richieste, dovrebbero essere sui sei referenti, dovrebbero essere quattro vie. Con sei referenti mi hanno aderito penso su una cinquantina di famiglie, forse un centinaio, non ho di preciso le notizie però è quella, è sicuro. Questa è la prima via via Cavour, poi ce n'è altre due che però scusate ma non sono a corrente adesso di questa cosa. Diciamo che comunque chi ha aderito per il controllo del vicinato in questa via sono circa il 60% delle famiglie che è la regola per far partire una zona di controllo del vicinato. E tutto ciò significa che d'ora in poi si avrà più un senso di sicurezza nella zona, sia nella sicurezza nel caso dei furti o quant'altro, sia nel decoro urbano. Se qualcuno vuole prendere formazione avete un sito di internet www.controllavvicinato.it oppure per Magenta quello di telefonare al comune di Magenta o al vice sindaco Paolo Razzano che sarà come si è dedicato fino adesso in maniera veramente ammirevole potrà consigliare come realizzare i gruppi di controllo avvicinato in quel di Magenta. Grazie. Di niente, grazie a lei. Allora, i gruppi sono due, uno qua in via Cabur, questo tratto, e in via Diaz, il tratto iniziale. Via Diaz all'altezza dice, si incrocia con... Fino al parcheggio, dall'ingresso fino al parcheggio. Abbiamo presentato il protocollo messo a punto dalla dottoressa Porta. I volontari quanti sono? Sono... Allora, i referenti sono due di questo gruppo e una famiglia del gruppo di via Diaz e ha aderito qua una quarantina di persone e in via Diaz anche lì una cinquantina di nuclei familiari. Nucoli familiari, vuol dire 90 nuclei familiari? Sì, un certo. Però ha moltiplicato anche per una media di due o tre persone, perché sono famiglie. Ovviamente, ovviamente, cioè la speranza di fare tutto questo cinema è che anche... Che banalmente, a turno sono due volte, quindi ispezionano, sonvegliano... No, nessuno fa ronde, ok, sono solamente... Osservatori. Sono solamente segnalazioni e informazioni che vengono date... Alla polizia locale? No, soprattutto alla comandata della polizia locale che si è messa in premissa a fare questo tipo di... Se posso già darvi anche il primo intervento che abbiamo fatto, perché poi abbiamo anche... Quello che è stato detto, esatto, cosa è importante riferire, cosa è importante vedere e non ci siamo limitati solamente a un discorso di prevenzione e reati, ma anche a un discorso di aiuto dei vicini di casa, quindi di soccorso anche a persone che siano in difficoltà. Nel caso è già successo, nel senso che ci hanno segnalato una situazione di difficoltà di una persona anziana che vive sola e che da qualche giorno aveva chiaramente problemi di memoria, si perdeva, quindi aveva problemi anche igienico-sanitari evidenti, quindi ce l'hanno segnalato, siamo intervenuti subito, abbiamo attivato i servizi sociali, la famiglia, il medico curante e quindi... Ma perché? Ma perché è stato spiegato a questi cittadini che c'è anche un reato che si chiama missione di soccorso, che non è quello previsto dal codice penale, che obbliga tutti i cittadini, tutte le persone a soccorrere persone che sono in stato di difficoltà, stato confusionale oppure in stato di abbandono e questo è un obbligo di ogni cittadino, è una norma che non tutti ben conoscono. Per cui devo dire che ha già funzionato anche da questo punto di vista. Mentre per quanto riguarda invece la prevenzione di furti o intrusioni, lì invece cosa avete consigliato? Abbiamo chiesto un'attività di osservazione, abbiamo anche spiegato cosa comunicare anche telefonicamente, abbiamo anche raccomandato se vedono auto di fotografare possibilmente le targhe perché memorizzare non è semplice, basta un numero, bisogna imparare usare anche le tecnologie insomma anche a buon fine da questo punto di vista. Quindi abbiamo chiesto, abbiamo spiegato loro quando è emergenza, quando invece non è emergenza le comunicazioni vanno fatte tramite il referente di zona che comunica via mail direttamente con me, io vedo le mail in tempo reale a qualsiasi ora, esatto, e quindi poi si stabiliscono le azioni successive. Adesso questo mese sicuramente faremo il punto dei primi incontri, il punto della situazione con i referenti di zona, vedremo un attimino come muore. ci proveremo degli obiettivi magari per il prossimo mese e quindi faremo il primo incontro in comando.